Le tue marche preferite? Idea! Faccio un tutorial! La spesa perfetta! Penny è la spesa perfetta! Qualità e convenienza memorabili! Wow! Convenienza da mille like! Basta un Penny! La frutta e verdura di Penny! Certo che con le patate in cucina ci divertiamo, tra l'altro essendo ricche di potassio aiutano a prevenire l'ipertensione mentre i minerali presenti contribuiscono a mantenere in salute le coronari. Una ricetta semplice ma gustosa, polpette di tonno e patate per una cena in famiglia perfetta anche per chi ha delle intolleranze alimentari. Realizzeremo le nostre polpette utilizzando per l'impasto il tonno, un peperone, uno spicchio di aglio, poi aggiungeremo sale fine e olio per rendere il tutto più saporito anche dello zenzero e ovviamente le patate. A quel punto andremo ad adagiare le polpette su una teglia foderata con carta forno per poi cuocere per venti minuti a duecento gradi e buona degustazione! Frutta e verdura di Penny, tutta salute! Le offerte che trovi solo da Penny. Nei nostri punti vendita trovate anche i Sapori Campani, una splendida regione che da sempre ci regala, come direbbero da quelle parti, delle squisitezze. E qui accendiamo tutta la nostra creatività ai fornelli. Ad esempio potremmo portare in tavolo una parmigiana di alici, friarelli e mozzarella di bufala. Tra gli ingredienti anche uova, uno spicchio di aglio e poi olio, sale e pepe e del pomodoro per guarnire il piatto. Nello speciale Sapori Campani, friarelli in olio di semi di girasole, scontati 3,49 euro centesimi e poi la mozzarella di bufala campana DOP di Val Bontà, in offerta 4,89 euro centesimi. In viaggio tra i sapori d'Italia, basta un Penny. Hai sentito? Da Penny c'è il cashback. Sì, fino al 5 novembre. Raccogli i punti con la tua Penny Card. Ogni euro speso vale un punto. Ci voleva. Più punti, più premi. E posso scegliere tra buoni sconto, prodotti gratis o premi della collezione. Operazione a premi valida dal 3 luglio al 5 novembre. Regolamento disponibile su Penny.it. Il ritmo della spesa. La spesa. Penny FM. Tuffati nell'estate di Penny. In viaggio tra i sapori d'Italia. E andiamo in viaggio in Campania alla scoperta degli shalatiali. Ho fatto qualche ricerca in loco e ho scoperto che è una pasta tipica della bellissima città di Amalfi. E a inventarli fu tale Enrico Cosentino nel 1978. E un'altra curiosità è che il loro nome deriva dal verbo shalare e tiella, che in dialetto napoletano significano rispettivamente godere e padella. Ottimo binomio. Ma per chi ancora non lo sapesse, in cosa consistono esattamente gli shalatielli? Beh, di fatto sono delle strisce di pasta più larghe e corte degli spaghetti. Secondo la tradizione vanno impastati a mano con farina e latte oppure acqua, formaggio grattugiato, basilico fresco tritato e sale. Si diceva piatto della costiera amalfitana. A me gli shalatielli li hanno serviti ai frutti di mare, dunque seppioline, gamberetti, cozze e vongole, con l'aggiunta crudo di buonissimo pomodoro fresco. Ne sento ancora il gusto. Nello speciale Sapore i Campani da Penny trovate di shalatielli cuor di terra le specialità. 500 grammi con penny card a 99 centesimi. E come diceva Sofia Loren, è a cattateville. In viaggio tra i sapori d'Italia. Basta un penny. Le offerte che trovi solo da Penny. Ed ecco un'offerta da prima pagina. Speciale tutta un euro, direbbe il vecchio strillone che vendevi i giornali per strada. Da ricordo tra l'altro è il nostro recente passato. Iniziamo con la prima offerta dal sapore tipicamente estivo, il pomodoro ciliegino. Il ciliegino tra l'altro è meglio utilizzarlo nature, come dicono i francesi, dunque a crudo per fare il pieno di licopene, che è un antiossidante che fa bene alla circolazione e aiuta a rimanere più giovani. Oppure tagliato a metà e messo a fine cottura nei nostri filetti di pesce cotti in padella. Mezzo chilo di pomodoro ciliegino è vostro appunto a un euro. Restiamo in tema di salute con l'uva bianca o nera senza semi a marchio nature. L'uva si sa ha proprietà lassative, grazie all'acqua, alle fibre e agli zuccheri, ma secondo recenti studi aiuta a distendere i nervi. Infatti la combinazione di melatonina unita alla vitamina B6, che sono proprio contenute nell'uva, sarebbe infatti ideale per dormire meglio. Uva bianca, nera, senza semi, natura E, confezione da 500 grammi, anche questa tutta un euro. Per i tuoi prodotti preferiti, basta un euro. Amici sono al Penny, il market conveniente dove trovi tutto, frutta fresca, specialità regionali, le tue marche preferite, idea, fashion tutorial, la spesa perfetta. Penny è la spesa perfetta, qualità e convenienza memorabili. Wow, convenienza da mille like. Cucina e conserva, con la nuova collezione Curver di Penny. Tanti contenitori in vetro, boro, silicato, che li rende leggeri e resistenti ad ogni cottura o lavaggio. E tutti dotati di coperchio ermetico. Fino al 5 novembre, raccogli i punti con la tua Penny Card e con 350 punti e un piccolo contributo di 1,99 euro, puoi ricevere già il contenitore quadrato. Ma puoi scegliere anche tra quello rotondo o rettangolare. Utili per cucinare al forno o al microonde, grazie al coperchio ermetico, puoi conservare in frigo o in freezer le tue pietanze. Collezione Curver. Semplice la vita in cucina, con Penny. Contenitori Curver, la nuova collezione di Penny. Eccoci pronti per scoprire la collezione di contenitori in vetro Curver. Riceverete un punto ogni euro di spesa e potrete avere tanti contenitori di forme diverse, tonda, quadrata, rettangolare. In più sono in vetro boro silicato, significa che sono resistenti agli svalzi termici e possono essere conservati in frigo, freezer, scaldati al forno o a microonde. Per conoscere meglio questa collezione abbiamo intervistato per voi Moreno Nosella, la communication manager di Curver. Le interviste di Penny. I contenitori in vetro Curver hanno un coperchio in resina e il corpo in vetro. Inoltre il coperchio è dotato di guarnizione e tip per una chiusura ermetica. Per questo sono pratici, resistenti e permettono di conservare a lungo i cibi mantenendoli inalterata alla freschezza. Sono disponibili in diverse forme che ben si adattano agli spazi e alle esigenze di ognuno e sono inoltre sostenibili in quanto realizzati in vetro e resina che sono materiali riutilizzabili più e più volte e riciclabili al 100%. E se si parla di sostenibilità, Penny in prima linea l'ho già fatto sostenendo altri progetti e lo fa tuttora con questa collezione. Sostenibilità per Penny significa salvaguardare l'ecosistema, dare un futuro più green alle generazioni e supportare il pianeta. Facciamolo anche noi con la collezione Curver. Già con soli 350 punti più 1,99 euro avrete il contenitore quadrato. Curver, incontenibile freschezza. Le offerte che trovi solo da Penny. L'estate è fatta per bere non solo acqua ma anche qualcosa di più sfizioso e magari con le bollicine come la Pepsi Cola che poi tutti chiamiamo semplicemente Pepsi. Qualche curiosità, la Pepsi nasce nel 1898 a New Bern, una cittadina della Carolina del Nord negli Stati Uniti, quando un farmacista, Caleb Bradham, appunto la creò. Il nome deriva dal termine dispepsia e dalla nocciola che poi è il frutto dell'albero di cola contenente caffeina che poi viene utilizzata appunto nella ricetta. La Pepsi ormai la troviamo ovunque ed è diventata certamente uno dei simboli dell'estate. Dal gusto tipico, analcolica e frizzante, la Pepsi da Penny la trovate nella lattina classica o quella senza zucchero, la Pepsi Max Zero. Comunque vi piaccia? Il prezzo identico, lattina da 33 centimetri a 49 centesimi. Penny ti porta l'estate. Penny FM Basta un Penny Hai sentito? Da Penny c'è il cashback. Sì, fino al 5 novembre. Raccogli i punti con la tua Penny Card. Ogni euro speso vale un punto. Ci voleva! Più punti, più premi. E posso scegliere tra buoni sconto, prodotti gratis o premi della collezione. Operazione a premi valida dal 3 luglio al 5 novembre. Regolamento disponibile su Penny.it Il ritmo della spesa Della spesa Penny FM Lavori con passione? Ti piace il lavoro di squadra? Stiamo cercando specialisti per le nostre macellerie. Se vuoi entrare nel team Penny e conosci la carne e le sue lavorazioni, candidati sul nostro sito Penny.it o invia il tuo curriculum a Specialista Freschi e Penny.it La ricerca è aperta anche ai colleghi Penny che possono imparare un mestiere nuovo attraverso un corso di formazione dedicato. Puoi parlarne col tuo direttore o i responsabili di zona. Oppure scrivi a Specialista Freschi e Penny.it Gli speciali di Penny.it Da Penny lo shopping è speciale perché adesso vi aspetta l'iniziativa Spendi e Riprendi. Questo significa che fino al 10 settembre se acquisterete almeno 15 euro di articoli scuola riceverete un buono da 10 euro da utilizzare dal 18 agosto al primo settembre su una spesa minima di 20 euro. La scuola ci dà la possibilità per conoscere una propria idea del mondo e costruire una propria visuale del futuro e una vera e propria scuola di vita. Quindi a tutte le età non sprechiamo questo grande dono e non sprechiamo neanche l'iniziativa di Penny Spendi e Riprendi valida fino al 10 settembre. Penny Cut per una spesa di valore basta un Penny basta un Penny Le offerte che trovi solo da Penny Anche se ancora siamo a farci bagna al mare o nel silenzio dell'alta montagna questo suono ecco questo suono ci ricorda che la scuola riprenderà a settembre e che bisogna iniziare a fare i primi acquisti magari risparmiando da Penny con lo speciale back to school potete fare felici i vostri bambini e rendere ancora più allegro il ritorno a scuola magari con lo zaino o il trolley mitama entrambi con modelli assortiti lo zaino mitama viene solo 29 euro e 99 mentre il trolley sempre mitama lo prendete a 39 euro e poi a scuola adesso si usano sempre tante penne e matite diverse e allora riempiamo zaini o trolley con penne a sfera o a scatto sette di matite sempre della mitama in questo caso ciascuna a 1 euro e 99 e poi vi ricordo che fino al 10 settembre c'è lo spendi e riprendi acquistando almeno 15 euro di articoli scuola con Penny Card riceverete un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 18 agosto al 1 ottobre su una spesa minima di 20 euro ma sempre con la Penny Card e Borri entra a scuola Penny Card per una spesa di valore basta un penny basta un penny Penny FM basta un penny amici sono al Penny il market conveniente dove trovi tutto frutta fresca specialità regionali le tue marche preferite idea faccio un tutorial la spesa perfetta Penny è la spesa perfetta qualità e convenienza memorabili wow convenienza da mille like basta un penny Penny FM Penny FM Penny FM Penny FM i prodotti tutti a un euro adesso nello speciale tutto un euro vi aspetta la farina di avena una farina molto salutare e allora io direi di abbinare la salute al gusto preparando un buon dolce da forno potete anche tagliarlo a metà e farcirlo con della crema io di solito preparo quella alla vaniglia perché è una spezia che dona benessere fisico e serenità perfetta per rilassarsi scegliamo la farina di avena perché contiene molte fibre in particolare beta glucano che genera un senso di sazietà e aiuta a controllare i livelli di zuccheri nel sangue adesso la farina di avena viene solo un euro da Penny basta un euro le offerte che trovi solo da Penny nelle mie vacanze sono appena stato in Campania e sono rimasto completamente affascinato dai suoi colori profumi ovviamente dai suoi sapori avete fatto caso poi che hanno tutti dei nomi simpaticissimi pensiamo ai friarielli friariello è un termine dialettale accettato anche nella lingua italiana con cui viene chiamato il bocciolo appena fiorito della cima di rapa un sapore campano unico che in genere viene abbinato alla salsiccia però i friarielli a Napoli li mettono spesso anche sulla pizza oppure ancora insieme a un'insalata di calamari viene una voglia scoprito paradise con i friarielli in olio di semi di girasole che da Penny trovate a soli 3 ore e 49 ovviamente friarielli e mozzarella di bufala campana DOP sono come un matrimonio una festa immancabile nello speciale sapori campani la mozzarella di bufala campana DOP è adatta a tutti anche perché contiene una parte di lattosio bassissima solo lo 0,4% ma allo stesso tempo è anche ricca di proteine di alto valore biologico che aiutano la massa muscolare dunque adatta agli sportivi e non a caso in Napoli quest'anno ha vinto lo scudetto la confezione di mozzarella di bufala campana DOP a marchio Val Bontà 10 mozzarella in tutto 500 grammi sono in sconto a soli 4,89 euro in viaggio tra i sapori d'Italia basta un Penny ma sta un Penny ma sta un Penny ma sta un Penny Penny FM ma sta un Penny hai sentito? da Penny c'è il cashback sì fino al 5 novembre raccogli i punti con la tua Penny Card ogni euro speso vale un punto ci voleva più punti più premi e posso scegliere tra buoni sconto prodotti gratis o premi della collezione operazione a premi valida dal 3 luglio al 5 novembre regolamento disponibile su Penny.it l'estate di Penny all'acquapal di Riccione musica relax e tanto divertimento tra piscine onde scivoli e trampolini Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro con Penny sei al centro dell'estate scegliamo per voi la qualità e la convenienza l'estate quest'anno viene raccontata dal cornetto limited edition Joy di Algida una vera gioia per il palato perché viene unito il sapore di cocco caramello e mango il gusto è quello del cioccolato bianco speziato alla cannella cialda croccante al cocco e l'immancabile punta al cacao beh il cocco è l'aroma che profuma di vacanza e questo cornetto è una creazione dello chef stellato Juan Quintero certamente non può mancare nei nostri freezer in estate adesso la confezione da quattro pezzi viene solo tre euro e novantanove centesimi vivi l'estate con Penny vivi l'estate con Penny le offerte che trovi solo da Penny scopriamo lo speciale pulizia di Penny con il Marchionetti che vi offre prodotti per la casa e l'igiene una cosa che non manca mai a casa mia il panno in microfibra spesso in tutte le superfici si accumula polvere non è bello né da vedere né da respirare allora non lasciamoci scappare la confezione da quattro pezzi adesso è scontata del quindici per cento e poi per sciogliere lo sporco e sterilizzare adesso vi aspetta il Super Vapor Mille pensate è pronto in tre minuti quindi lo possiamo usare anche quando andiamo di fretta o stanno per arrivare ospiti gli accessori sono inclusi e adesso viene solo trentaquattro euro e novantanove centesimi unico basta un Penny non puoi combattere una guerra da solo il cuore è una Penny FM basta un Penny amici sono al Penny il market conveniente dove trovi tutto frutta fresca specialità regionali le tue marche preferite idea faccio un tutorial la spesa perfetta Penny è la spesa perfetta qualità e convenienza memorabili wow convenienza da mille like basta un Penny Penny FM Penny FM se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro vieni da Penny stiamo cercando addetti al banco gastronomia servita e punto caldo in tanti Penny d'Italia se sei interessato manda la tua candidatura a specialista freschi at Penny.it da Penny il lavoro è a portata di mano vicino basta un Penny tra gli alimenti più utilizzati nel nostro paese si distingue anche il riso che arriva da molto lontano dall'Asia alcuni monaci in un'abbazia in provincia di Vercelli furono tra i primi a coltivarlo in Italia verso la fine del 1400 riso rappresenta uno dei più versatili ingredienti con aspetti importanti che lo diversificano da altri cereali ad esempio è privo di glutine anche poco sodio di conseguenza risulta eccellente per chi è per teso riso poi si presta per un'infinità di ricette risotto allo zafferano ai fiori di zucca ma possiamo creare anche un'insalata di riso light il riso è perfetto per antipasti piatti unici e primi vicino basta un penny